Diamo un'occhiata alle nostre fustelle Framelits. La cosa fantastica delle Sizzix Framelits è che le lame scorrono esattamente lungo il bordo interno, permettendovi di vedere esattamente quello che taglierete ogni volta, che sia una foto o un sentimento. Le nostre Framelits sono disponibili in set che vi permettono di creare aperture da incorniciare o stratificare. Davvero, potete utilizzarle in tutti i vostri progetti di papercrafting. Sono disponibili anche Framelits con timbri che funzionano esattamente allo stesso modo. Quindi potete timbrare e tagliare e vedere quello che state tagliando ogni volta. Quindi come li utilizziamo? Li userò nella macchina Big Shot con l'aiuto della Solo Platform & Shim. Avrò anche bisogno del Wafer Thin Dye Adapter. Se avete la piattaforma multifunzione, dovete utilizzare il Tab 2. Ok, ora metterò la mia piattaforma e il mio adattatore nella mia macchina Big Shot. Poi prendo le mie due placche da taglio standard, del cartoncino blu e uno dei miei Framelits con la lama rivolta verso il basso. Poi prendo l'ultimo piano da taglio. Infilo nella macchina e poi la passo attraverso. Potete utilizzare il Framelit con tutte le macchine fustellatrici SizzX. Come potete vedere, ho ottenuto una forma dal taglio nitido e preciso. Adesso che ho la base, vado a tagliare la mia fotografia. Seguo esattamente lo stesso procedimento di prima, quindi prendo la foto e metto la lama rivolta verso il basso. Posso usare del nastro adesivo leggero se necessario. Prendo la mia ultima placca da taglio e la metto sopra per creare il mio sandwich fustellato. Poi la infilo nella bocca della macchina con la solo platform in Chim e il solo thin dye adapter e la passo attraverso, girando la manovella. Potete vedere che ho tagliato esattamente quello che vedo. Adesso ho una cornice perfetta da utilizzare su pagine di scrapbook o cartoline, come ho fatto qui. La gamma di forme per le fustelle Framelits sono sia forme basilari che disegni più complessi. Potete utilizzarli in tutti i vostri progetti di paper crafting, card making, scrapbooking, forme tridimensionali. Davvero, le possibilità sono infinite. Per ulteriori idee stimolanti e suggerimenti e trucchi su come utilizzare le fustelle Framelits, visitate sizix.co.k barra 101.